Oggi prepariamo insieme queste deliziose tartellette al pistacchio e cioccolato. Per prima cosa andiamo a realizzare la base delle nostre tartellette, quindi tritiamo i biscotti, sciogliamo il burro e uniamo insieme. Quando saranno ben amalgamati inseriamo nelle nostre ciotoline e schiacciamo grazie ai bordi di un cucchiaio. Versiamo in una ciotola la panna fresca insieme alla crema di pistacchio e montiamo insieme. Farciamo ogni tartelletta con abbondante crema al pistacchio e sistemiamo in frigorifero. Nel frattempo realizziamo la ganache sciogliendo il cioccolato tritato nella panna bollente. Copriamo ogni tartelletta con abbondante ganache fondente. Ed ecco il golosissimo risultato.